Stefano Bertolotti, speaker ufficiale del Giro d'Italia, una grande esperienza nel ciclismo da molti anni. Stefano, cosa ci dici di questa prima settimana del tuo Giro? Beh, il mio Giro si realizza un sogno, è il sogno che avevo da quando ero piccolo, da quando ho iniziato a fare questo mestiere. Devo dire che essere qua a raccontare le emozioni e le suggestioni del Giro d'Italia è veramente un'emozione indescrivibile. Siamo passati anche attraverso dei momenti veramente difficili, anche e forse soprattutto dal tuo punto di vista, il tuo lavoro. Come hai dovuto affrontare quei momenti? Non è stato facile, non è stato assolutamente facile come non è stato facile per tante persone che sono al seguito del Giro d'Italia. Abbiamo passato un momento difficilissimo, abbiamo cercato di stringere i denti, mi ricordo appunto di Walter Weiland che sta pedalando con noi, come diciamo sempre. Abbiamo un amico in più, Walter Weiland è sempre in gruppo, è sempre con noi. Come avete fatto per trovare la misura del racconto in quei momenti? Abbiamo cercato di trasmettere quello che stavamo provando, tanta tristezza, è stato molto difficile un'atmosfera irreale. Eravamo tutti tristi, è più facile raccontare la gioia, raccontare questi momenti, vivere la gioia degli atleti. E' stato veramente un momento che non avremmo mai voluto vivere, ma che abbiamo voluto affrontare con tante difficoltà. Da qui alla fine che cosa ci aspetta? Ci aspettiamo un grande Giro d'Italia, un grande spettacolo sulle strade, tantissima gente che ci ha accompagnato anche in queste prime giornate. Un grande spettacolo che sicuramente i corridori ci regaleranno. Ci fai un annuncio dedicato a Ciclo Web? Un annuncio dedicato a Ciclo Web. Bene, gentili signori e signori, buongiorno, continuate a seguire Ciclo Web, www.cicloweb.it, il sito del grande ciclismo. Grande Stefano, grazie.